A tre anni dalla sua ultima apparizione torna a svettare a Pesaro una delle attrazioni turistiche più studiate e volute dall'amministrazione Ricci. Dall'8 luglio al 31 ottobre la ruota panoramica sarà nuovamente la protagonista del lungomare pesarese, che con i suoi 35 metri di altezza, 11 in più rispetto all'ultima del 2020, regalerà una visuale alternativa a chi vorrà gustarsi la città dall'alto. Come nell'estate 2018, 2019 e 2020, la ruota sorgerà in Piazzale della Libertà a due passi dalla Palla di Pomodoro e a pochi metri dal mare. Non verrà montata perpendicolarmente a Viale della Repubblica, ma sarà collocata qualche metro più a sinistra. Ma se la ruota panoramica rappresenta un punto attrattivo una volta ultimata, per quattro giorni a partire da oggi, martedì 4 luglio, in vista del suo assemblamento, creerà attorno a sé qualche modifica alla circolazione. Dalle 19 di martedì fino alle 9 di mercoledì mattina sarà istituito il divieto di sosta in Viale della Repubblica all'intersezione con Viale Trieste e nello stesso Viale Trieste all'intersezione con Viale Zara. Divieto di sosta che invece in Viale Colombo perdurerà dal 4 luglio a sabato 8. Tutte modifiche dovute alla necessità dei mezzi addetti al trasporto della struttura che, provenendo dalla statale, dovranno raggiungere Piazzale della Libertà. Non appena il punto attrattivo sarà completato, la viabilità tornerà nella sua tradizionale versione.